Musica Venerdì 31 marzo, San Beniamino. È il novantesimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 275 alla fine. Il sole sorge alle 6 e 53, tramonta le 19 e 38. La luna si leva alle 9 e 12, tramonta le 23 e 40. Mora Venezia Marco Foscarini dopo soli 10 mesi di principato all'età di 68 anni. Fu uno tra i più insigni d'oggi della Repubblica Veneta. Le previsioni per domani. Per lo più poco nuvoloso in pianura e parzialmente nuvoloso in montagna, con locali addensamenti di tipo cumuliforme che a tratti potranno interessare anche la pianura. Probabilità bassa in montagna di locali modeste e precipitazioni. Temperature. Le minime subiranno in genere contenute variazioni di carattere locale. Le massime un moderato calo sull'entroterra. Grazie. Grazie.